del potente re minosse raccontiamo qui la storia e del minotauro che nel suo regno nacque figlio di un dio era minosse della sua nascita abbiamo già narrato la madre europa col divino zeus l'aveva generato il re degli dèi infatti innamorato della bella europa per sedurla aveva assunto l'aspetto di un meraviglioso toro bianco e portandola in groppa era giunto a creta sull'isola oltre a minosse il dio generò con europa altri due maschi radamanto e sarpedonte poi europa sposò il re di creta asterione e questi ne adottò i tre figli quando il re asterione morì i tre fratelli si contesero il trono di creta e minosse per divenire sovrano invocò il dio del mare con queste parole o tu che reggi il tridente e hai avuto in sorte il regno delle onde inquiete da quelle onde poseidone manda sui lì di cretesi una candida bestia come segno che il regno è di minosse per volere degli dèi e io ti prometto che durante i festeggiamenti del mio insediamento quella stessa bestia sacrificherò sul tuo altare e così dai flutti marini giunge sul lido di creta un gigantesco toro bianco tanto bella è la bestia che minosse non vuol più separarsene così il re dopo aver sottratto il trono ai fratelli nasconde il toro che gli valse il regno e con l'inganno sacrifica a poseidone un toro comune ma la frode non piacque a poseidone allora il dio che col tridente governa le onde del mare adirato per l'oltraggio getta una maledizione su minosse e scatena nella di lui moglie una sfrenata passione per il possente toro così passifae moglie di minosse arde tutta d'amore per la strepitosa bestia la regina chiede ad edalo abile inventore di aiutarla a sedurre il miracoloso toro ed edalo costruisce per la sua bramosa regina una vacca di legno la ricopre di pelle bovina e vi introduce passifae che perso ogni pudore seduce il toro divino e lo ama ma da questa passione nasce un'orribile creatura il minotauro un gigante dal corpo umano e la testa di toro e così come minosse figlio del divino toro bianco di zeus e della regina europa fu adottato dal re di creta sterione così egli stesso divenuto ora re di creta adotte il minotauro figlio della sua regina passifae e del divino toro bianco di poseidone tuttavia l'ira di poseidone non è ancora finita il re del mare un'altra vendetta mette in atto contro il re di creta rende il divino toro bianco così furioso che dalle narici lancia fuoco devastando tutto ciò che vede e in tutta creta tale era il terrore che infine dovette giungere ercole per catturare la bianca bestia il forzuto eroe riesce ad omare il toro e così come europa è raggiunta creta cavalcando il candido toro di zeus così ercole lascia creta cavalcando il candido toro di poseidone e a nuoto sul dorso della divina bestia se ne torna in grecia frattanto il minotauro crescendo diventa sempre più aggressivo il turpe adulterio della madre saltava all'occhio per l'eccezionale aspetto biforme del mostro da lei partorito così minosse fa costruire un labirinto scuro dall'ingegnoso dedalo e vi rinchiude il mostro taurino tanto difficile era orientarsi in quel palazzo inestricabile che lo stesso dedalo a stento ne ritrovò l'uscita intanto androgeo uno dei figli di minosse e passifae si era recato ad atene per partecipare ai giochi e lì l'atleta vinse tutte le gare ma il re di atene egeo colto dall'invidia fece uccidere il principe cretese allora minosse animato dal desiderio di vendicare con le armi la morte del figlio scatenò la guerra contro atene e il re egeo sconfitto fu costretto un orribile tributo per espiare il tremendo crimine ogni nove anni doveva inviare a creta sette fanciulli e sette vergini da rinchiudere nel labirinto sacrificati al minotauro e un'altra disgrazia cretese infestava il regno del re egeo infatti ercole quando era tornato in grecia in groppa al toro di poseidone l'aveva liberato così la terribile bestia giunse nella pianura di maratona gettando il terrore in ogni dove venne infine un eroe a liberare il regno di atene dal gioco cretese era teseo figlio di egeo re di atene il coraggioso principe catturò il toro a maratona lo incatenò e lo sacrificò agli dei ma teseo era destinato ad affrontare anche il minotauro il mostro biforme che a creta da quel divino toro bianco era nato ma di questa storia e dell'amore di teseo e arianna figlia di minosse ti narrerò un'altra volta